Oh, sarà il tuo giorno più triste quando Noelle sceglierà me. Sarà stupendo, non vedo l'ora di chiederglielo. Anche io! Ciaga, ciaga! Ok, ok, non puoi continuare così. Ehi, Harry, la nipote della tua insegnante è di sopra, nella camera degli ospiti. Bene. Sì, molto bene. Scusami. Mamma, papà, non sarò disponibile sabato sera perché intendo portare la nostra ospite a cena fuori. Obiezione. Non obiezionare? Sì che ti obieziono. Perché sarò io a portare Noelle a cena sabato sera. Fermi. State dicendo che sabato sera andrete fuori a cena? Sì, è così. Ok. Si organizza una cena a quattro con Harry o Jasper. Allora posso uscire con Kale? Senti, per me e per tua madre sei troppo piccola. In realtà, se è un'uscita a quattro con Harry o Jasper, allora direi che si può fare. La accendiamo. Noelle! Ciao. Piper, mi hai chiamata? Sì. Sabato sera mio fratello Harry e il suo amico Jasper vogliono portarti fuori a cena. Oh, ma che carini. Sì, ma se gliene uno. Insomma, è imbarazzante. Ma direi Jasper. Sì, baby! Chaga, chaga! Chiu, chiu a te! Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, c'è confusione, chiaramente. Noelle, ci hai scambiati. Io sono Harry. Quello è Jasper. Io sono questa. Lo so. E sei molto dolce, ma... Jasper, sarò lieta di uscire con te sabato sera. Aspetta, aspetta. Cosa? Grande. Ehi, Kay, io e te, sabato sera. Comprati una camicia. Sì, ok. Io... Non è per cattiveria. È che... Perché lui? Beh, non lo so. Direi... Che il suo sorriso mi piace.